Su questo canale, Alberto Repetti Artist, ho cominciato parecchi mesi fa a presentare i miei disegni a penna che ho chiamato Biroscapes. A tutt'oggi sono 371, l'ultimo l'ho pubblicato pochi giorni fa. In questa playlist che vi suggerisco con un link in alto a destra, metterò tutti questi miei disegni in sequenza divisi in piccoli video di 33 disegni ciascuno. Questo che vedrete oggi è il quinto video e si comporrà dei disegni che vanno dal numero 133 al numero 165. I Biroscapes sono rigorosamente eseguiti su fogli lisci ad alta grammatura delle dimensioni di 14,8 cm x 10,5 cm. Biroscapes perché fatti esclusivamente con la penna sfera escape perché sono paesaggi ora reali ora irreali ma che presuppongono sempre la possibilità di costruire un mondo dove perdersi o ritrovarsi. Prima di lasciarvi il video vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video e a condividerlo sui vostri profili social e a commentare naturalmente sotto la descrizione. Vi auguro una buona visione e arrivederci a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.